Ciao a voi ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questo video veramente particolare Allora, che cosa è successo? Praticamente, come potete vedere, io mi trovo alle Bahamas, ragazzi Mi è arrivata una notifica veramente importante Ovvero l'opportunità di andare a vedere i quarti Champions League Milan contro Napoli Che cosa succede però? Succede che io devo lasciare questo magnifico viaggio qua alle Bahamas Perché devo tornare prima in anticipo per andare a vedere il Milan contro Napoli Quindi praticamente mancano poco più di 24 ore da questa partita Io adesso devo tornare a casa, devo fare le valigie e devo partire per questa esperienza, ragazzi E niente, è stato veramente bello stare qua alle Bahamas Ma dobbiamo andare a vedere una partita che rimarrà nella storia del calcio Come il Milan contro Napoli È venire con me, viene Ayub Si sacrifica anche lui per questa esperienza Ragazzi, dalle Bahamas barra Miami Allo stadio di San Siro in 24 ore Con il tuo accompagnatore di guida Allora ragazzi, prima di decidere se lo voglio fare oppure no Andiamo a vedere giustamente quanto costano i biglietti E poi dopo decidiamo se fare questa cosa Ma è tutta un'esperienza, Sam Ragazzi, ci siamo Allora, stiamo per prendere i biglietti per Milano Speriamo bene, signori Speriamo bene Allora, tra Miami-Milano o Milano-Miami? No, Miami-Milano Ah, va bene Quindi allora, domani l'11 perché sennò è l'ultima data in cui puoi andare Luzi, luzi, luzi Speriamo bene, ragazzi Allora, vuoi andare in business o... Business costano 2466 euro Ehi, l'open mila? No, 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 no Adesso è lo youtube, è vero No, 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 no Mi va benissimo l'economy Che mi va benissimo, ragazzi 836 euro di biglietto Per andare a San Siro a vedere i quadri di Champions League 836 euro? Per due persone No, no, una, Sam Come una? Io parto già all'11, però Tu hai il vuolo 12 Quindi sono io Quindi tu hai perso Poi perderai 836 euro più l'ora del ritorno per vedere il Milan e perderai l'altra Ma praticamente il biglietto dello stadio lo stai pagando? No, cioè non proprio così Stai pagando 800 euro del biglietto dell'aereo come se stessi pagando quello del zanziero Beh, non fai niente pensare di fuori Veramente E niente ragazzi, spero veramente che ne valga la pena Mi raccomando Leao, mi raccomando Leao, non mi puoi deludere Mi puoi deludere E allora, stappiamo questo biglietto E godiamoci questo ultimo giorno qua alle Bahamas Che domani mattina si parte per Miami E con San Siro Andiamo a fare questa bellissima esperienza Io e il mio fratello Sago e io sono il soncioli Quindi vi porterò molta fortuna Ragazzi, ci siamo Siamo in taxi E stiamo andando verso l'aeroporto a fare questa esperienza Unica Abbiamo lasciato purtroppo gli altri Che si guarderanno altre 48 ore di vacanza Allora, la partita la guarderanno in tv Mentre noi saremo a San Siro Ok Tiene bene Ma rapido Rapido, rapido The best Uber in town in Miami Signori, signori E siccome ci ha fatto arrivare un man che non si dica Thank you very much Thank you bro Thank you Adesso andiamo a prendere la nostra roba a San Siro Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Ci siamo ragazzi San Siro ci aspetta Appena arrivato a Roma Adesso direzione Milano E poi Andiamo allo stadio Il viaggio è andato tutto bene Siamo appena arrivati Adesso purtroppo Ayub dovrà andare verso Bologna Poi da Bologna Mi raggiungerà Milano Mentre io Ho un altro volo Per Milano Avendo preso due voli separati Io il mio last minute Purtroppo Questo si poteva fare Per quello che l'hai pagato Veramente Veramente ragazzi Per quello che l'ho pagato Ragazzi Ci tenevo a precisare Che se questa esperienza Si sta svolgendo E si svolgerà È solo grazie a Star Casino Sport Che last minute Ci ha dato questi biglietti Per i quarti di Champions League Ragazzi Quindi Potentissimo Mi raccomando Seguite tutti i profili social di Star Casino Perché ce ne saranno Veramente Delle belle Delle belle E detto questo Ayub Ci vediamo direttamente A San Siro Io vado a prendere il volo Per Milano E poi Ci vediamo A San Siro Per questa reaction Di Milan Contro Napoli Let's go guys Ragazzi Ci siamo Siamo arrivati a San Siro Dalle Bahamas Forza Milan Dalle Bahamas A San Siro In 48 ore L'abbiamo fatto Andiamo 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 ragazzi Siamo arrivati gente Ce l'abbiamo San Siro Dalle Bahamas Signori In Neanche 48 ore Anzi 24 ore Da quando ci è andato Il biglietto Ayub Com'è La situazione ragazzi Qua è San Siro E San Siro E allora Entriamo dentro Let's go Ci siamo gente Stiamo per entrare Di starare che ci si è arrivato Star Casino Sport Per questa partita Mamma mia Che casino c'è Ayub Troppo Fra guarda Guarda quanto pieno Alla spagna E adesso Ci andiamo a sedere I nostri posti E andiamo A reagire Questa partita Incredibile tipoteria Fate le scherze E' tempo di champion Signori E noi ci siamo Direttamente Dalle Bahamas A San Siro In 48 ore Ci siamo Piaggio di 11 ore Per venire qua Wow Stamattina eravamo a Miami Oggi siamo Sanzino Decembio 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 Ragazzi E' iniziata Iniziata la partita Subito un attacco Il Napoli Che è bello carico Ma il Milan c'è Ragazzi Subito occasionissima Per il Napoli Mamma mia Ragazzi Tira Tira Mamma mia Un'altra occasione Per il Napoli Ragazzi Va bene Va bene Va bene Tomori Va bene Va bene Va bene Dai Dobbiamo ingranare meglio Mamma mia Cosa ha fatto Leao Ragazzi Cosa ha fatto Leao Che partita Dalla metà Campo Ragazzi E' arrivato In porta Leao Wow Quanto non ha segnato Ragazzi Leao Parliamo di centimetri Occasionissima Per il Milan Occasione per il Milan Porto Leao Palla dentro Dai Raffa Dai Raffa Accendici sta partita Grandissima ripartenza Per il Milan Sì! 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 La forza del lui finale! E voi! Benassero! Un ragione! Andiamo! 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 Benassero! 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 Pazzisce! Attenzione! Un ragione! Un ragione! Altro calcio d'angolo per il Milan signori! Parte Benassero! Traverso! Traverso! E finisce qua il primo tempo signori! Complimentoni! Complimenti a questo Milan! Grandissimo! Primo tempo! Siamo partiti malissimo! Primi 5-10 minuti! Gli schiavamo veramente grossi di prendere l'1-0! E invece l'abbiamo fatto noi! Ci vediamo direttamente al secondo tempo! Dai! Let's go! Con questa reaction! Ragazzi! È iniziato il secondo tempo! Da circa 10 minuti! Il Napoli è iniziato veramente bene! Cambio per il Milan! Non mi piace! Esce l'autore del gol Benassero! Entra a sale Makers! Grandissima galoppata di Theo! Che si è buttato davanti a un povero ingenio in chissà! Si è beccato il giallo e anche di Lorenzo! Ragazzi! Flamoroso! Flamoroso quello che è appena successo! Ragazzi! Un'espulsione incredibile! Rosso per anche chissà! Perché tutto sanzi risulta ragazzi! Mamma mia che occasioni che stiamo avendo! Tutto sanzi risulta! Il Milan sta veramente rischiando di segnare un altro gol! Dopo l'espulsione sta succedendo di tutto! Esce Brahim Diaz! Standing ovation! Ma che bel giocatore! Entra Rebis a dare un po' di pericolosità a questo attacco del Milan! Mamma mia che cosa abbiamo rischiato ragazzi! Che parata! Mancano quattro minuti e novantesimo che parata di Magic Mike Minyan! Minuti veramente bollenti! Mamma mia ragazzi! Il Napoli non muore mai! Attenzione! Cinque minuti di recupero! Cinque minuti di recupero signori! Cinque minuti di sofferenza ragazzi! È finita! Il Milan passa a San Siro signori! Mamma mia! Mamma mia! Mi è valsa la pena! Mi è valsa la pena! Dalle Bahamas a San Siro! In 11 ore! Porta Mila! Porta Mila! Dalle Bahamas a San Siro in 11 ore signori! Siamo cotti! Abbiamo visto lo spettacolo! Siamo cotti! Ci siamo divertiti! Abbiamo visto lo spettacolo ragazzi! Io voglio veramente ringraziare chi ha seguito questo video fino alla fine ragazzi! Mi è valsa veramente la pena! Rinunciare ad un viaggio veramente fantastico Per una partita che mi ha regalato gioia e emozioni! Per un altro viaggio! Per un altro viaggio! Per un altro viaggio! E quindi ci vediamo a Napoli per la seconda parte di questo quarto di finale! E ovviamente signori ci teniamo a ringraziare Star Casino Sport per averci regalato queste emozioni! Per averci dato questa esperienza! E per averci dato l'opportunità di venire qua a San Siro direttamente dal Bahamas! E con questo coro di San Siro ci vediamo ragazzi! In un altro prossimo video! Bella ragazzi! Ciao! Ciao!